Si chiama Jodie Weston, non tutti la conoscono, è una famosa attrice televisiva di Rich Kids Go Skint e questa ragazza vorrebbe che San Valentino, la festa degli innamorati, venga cancellata per sempre perché troppe donne la utilizzerebbero per andare a sminuire quelli che sono senza una donna oppure un uomo, i single. Jodie ha fatto sapere che la ricorrenza in questione, celebrata in tutto il mondo il 14 febbraio o meglio in quasi tutto il mondo è una festività arcaica, antica, vetusta ma al tempo stesso anche molto crudele. La ragazza è già un fidanzato ma fa sapere che la coppia si andrà ad abbandonare o meglio non si andrà ad abbandonare a quelli che saranno i gesti che vengono compiuti ogni 14 febbraio, ogni San Valentino che si rispetti quindi il pranzo e la cena fuori, i bacetti, lo scambio di legali e vedi seguito. Ok? La ragazza insomma, diciamo così, dà del filo a totori, cioè a quelli che sono speranzosi proprio nel San Valentino. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube, iscrivetevi al canale mi raccomando, narratore italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate insomma. La bella Jodie Weston è contro quindi versus San Valentino. Ciao a tutti da Narratore Italiano.